Ci sono diverse soluzioni. Una soluzione banalissima, ma veramente banale, è questa. Lo Stato fa un articolo di legge domani mattina e dice i titoli di Stato di nuova emissione hanno alla scadenza la possibilità di essere utilizzati per il pagamento delle tasse. Perché questo? Perché siccome i mercati sono spaventati dal fatto che lo Stato alla scadenza non ti rimborsi il capitale, se lo Stato ti dice, guarda, nell'eventualità in cui dovesse anche succedere un'ipotesi di questo genere, tu quel titolo, quello che c'è scritto su quel titolo, il valore nominale, lo utilizzi per detrarlo dalle tasse. In questa maniera lo Stato può tranquillamente garantire la solvibilità di quel titolo. Poi dobbiamo assolutamente avere delle banche pubbliche perché fare quello che fa la Germania, cioè con le banche pubbliche fare da prestatore l'ultima istanza, cioè comprare il titolo di Stato. Poi dobbiamo assolutamente creare delle monete fiscali, che sono degli strumenti monetari che lo Stato può emettere a credito e quindi non ha debito perché non sono soggette all'autorità della Banca Centrale Europea. Per ultimo, la Banca d'Italia, nonostante, come dicevamo prima, è un'istituzione di diritto pubblico, le quote di partecipazione devono tornare in mano allo Stato. Assolutamente. Due cose come annuncio. Intanto, chi vuole approfondire tutte le nostre proposte sul nostro sito si può scaricare questo documento gratuito dove sono illustrate non solo l'analisi del sistema, le cause dei problemi, ma anche le soluzioni concrete realizzabili. Poi, la cosa invece più importante è che il 23 di novembre stiamo organizzando un convegno alla Camera dei Deputati dove ci sarò io, Nino Galloni, Antonio Maria Rinaldi, Giovanni Zibordi, Marco Cattaneo in cui parleremo specificatamente di come lo Stato può creare soldi per il benessere dei cittadini.